Il vento Il fun è un vento particolare, tipico di questa parte del paese. Nasce sulle Alpi. Col suo tepore alza la temperatura e provoca le valanche. Quando è molto forte dicono che faccia addirittura impazzire. Tu lo sai perché gli insetti sono così agitati? Non l'avevano mai fatto prima. Probabilmente è per causa mia. Mi sento un inquieto e spaventato. Ecco, vedi? Non ha paura di te. Con me non farebbe mai così. Chiedegli di portarti nel posto in cui l'assassino tiene nascosti i cadaveri e lei ti ci porterà. Questa mosca è la tua bacchetta magica. È perfettamente normale che gli insetti abbiano delle qualità telepatiche. Già, per gli insetti è normale. Ma io sono normale. Anch'io vi amo. Vi amo tutte. Grazie a tutti.